Buonasera e bentrovati. Oggi puntata dedicata al racconto del cammino sinodale di una chiesa in Italia. Andiamo nell'Arcidiocesi di Pisa. Per noi è semplice, siamo in via Aurelia 796. Basta percorrerla tutta, quantomeno, verso nord. A un certo punto incontriamo Pisa e lì ci fermiamo. Dopo la sigla. Ed eccoci qua, l'Arcidiocesi di Pisa, protagonista oggi nel nostro racconto. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, anche un bentornato a Don Emanuele Morelli, referente del cammino sinodale dell'Arcidiocesi di Pisa. Grazie per essere tornato qui da noi. Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere. Piacere nostro. Silvia Pampana, bentrovata anche te, ci colleghiamo con Pisa. Eccola qua Silvia, catechista, eccoci qua, ma membro anche dell'equipe sinodale. Catechista è già un indizio rispetto anche ai risultati di questo cammino sinodale pisano. Ma iniziamo con la domanda di rito che facciamo sempre al vescovo. Oggi c'è Don Emanuele, insomma, ci racconterà a lui che chiesa è quella di Pisa. Per chi non la conosce, quali sono i tratti somatici così più particolari? Sì, una chiesa bella e complessa, bella non solo perché è la mia, ma perché dal punto di vista naturale, paesaggistico, dell'arte, la piazza dei miracoli, la torre, sono patrimonio dell'UNESCO. No, ma anche complessa perché territorialmente è una diocesi distribuita su tre province, sono 300 mila abitanti, abbiamo due isole a nord, la Versiglia storica e il comune di Barga, e un'isola a sud, le colline pisane, che arriva fino a toccare il mare a Cecina. Sono nove vicariati, nove zone pastorali, una bella diocesi anche perché in questi anni ci sono tanti preti giovani che sono bravi e motivati, appassionati del Vangelo e della Chiesa, e questo fa la differenza nella nostra chiesa pisana. C'è un bell'impegno dal punto di vista della catechesi, del percorso catechistico, ne parleremo dopo anche nel servizio, con l'impegno a costruire insieme il progetto catechistico Followers, e posso dire anche, insomma, c'è una bella testimonianza della carità, qui gioco in casa perché sono anche direttore della carità diocesana. Noi vediamo queste bellissime immagini che ci riportano alla storia di Pisa, abbiamo visto, insomma, la Torre dei Pisa, la Piazza dei Miracoli, e che lì è anche... Quanto è difficile portare avanti un'eredità che ci dimostra tanto attaccamento alla Chiesa, tanti grandi artisti e architetti hanno raccontato, no? La fede attraverso queste opere, un'eredità importante. Siamo provocati costantemente e quotidianamente quando usciamo anche dall'Ufficio Carita, siamo in Piazza Arcivescovado e ci affacciamo sulla Piazza dei Miracoli, al bello non ci si abitua mai, quindi siamo anche provocati a fare cose belle, a costruire bei progetti, a mettere in piedi delle sinergie che abbiano la capacità di raccontare, di testimoniare la bellezza del Vangelo. Silvia Pampana, come avete vissuto e accolto il cammino sinodale? C'erano dei temi che, insomma, già erano al cuore, nel cuore di voi pisani, come temi importanti da portare avanti, che sono stati magari anche confermati dall'ascolto del sinodo? Sì, 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 certo. L'inizio è stato difficile perché eravamo sulla coda della pandemia e quindi era difficile incontrarsi, però è stato bello ritrovarsi insieme e le persone piano piano hanno proprio goduto di questa possibilità di stare insieme. I temi sono stati tantissimi perché veramente il primo anno ci sono stati tantissimi incontri, anche il secondo, ma i temi sono stati tantissimi. Quelli più battuti, più frequenti, più gettonati, sono ovviamente il linguaggio, l'ascolto dei giovani perché siamo una realtà anche universitaria importante, quindi ci sono tantissimi giovani, la popolazione di Pisa è quasi raddoppiata rispetto a quegli studenti. E quindi proprio il linguaggio, l'ascolto dei giovani e la prossimità sono quelli ovviamente che sono usciti fuori un pochino in tutti i vicariati e in tutte le situazioni che abbiamo ascoltato. Don Emanuele, assemblee pastorali, incontri nei vicariati, avete scoperto qualcosa di nuovo magari delle parrocchie vicino perché non è scontato conoscere anche la propria chiesa? Sì, abbiamo scoperto la voglia di camminare insieme. Lo diceva bene Silvia, la pandemia ci ha fatto diventare consapevoli anche di una fragilità del tessuto della nostra chiesa locale, quindi della necessità di ripartire da ciò che conta davvero, da ciò che è essenziale, rimettere al centro la parola di Dio, rimettere al centro la vita nella liturgia, rimettere al centro il servizio, la testimonianza nei confronti dei poveri. Però ecco, credo, lo dico con un'immagine, spesso siamo un po' così, ci fermiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Questa è una tentazione e un rischio. Sì, anche la pandemia, spesso esorcizzare la pandemia ha significato riprendere a fare le cose che facevamo prima, no? E invece credo che siamo chiamati a scoprire ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Quindi dal se sempre fatto così al ciò che è essenziale, ciò che conta davvero, ciò di cui non possiamo fare a meno. Dal campanile al territorio, dal territorio, quindi le unità pastorali, una scelta fatta già 13 anni fa, riaffermata lo scorso anno, nel 2023, è un percorso normativo, oramai per la nostra chiesa locale, che vuol dire dal territorio alla comunione, alla comunione tra parrocchie, alla comunione tra i catechisti, alla comunione tra operatori della carità. Anche perché le unità pastorali, mettere insieme comunità, sono percorsi necessari, ma non scontati. Sì, sono percorsi necessari perché generalmente sono generati dalla mancanza del presbitero, dalla diminuzione numerica dei preti, ma sono necessarie perché la chiesa del Vaticano II è una chiesa mistero di comunione, è una chiesa che ci impegna ad essere insieme, a passare dall'io al noi, dal mio al nostro. Silvia Pampara, anche il tema della corresponsabilità, della formazione dei laici, rimetterà al centro la famiglia, la famiglia come contenitore, diciamo così, di tutte le generazioni, quindi anche di tutta l'attenzione che la chiesa ha per le persone. Sì, difficile come diceva anche Don Emanuele è stato proprio fare spazio agli altri e le famiglie noi abbiamo incontrato, sono stati sentiti un po' in tutta la diocesi, i genitori dei bambini del catechismo, che sono delle famiglie non sempre dentro la chiesa o come minimo sul perimetro della chiesa, però proprio da loro sono venute tante richieste, tanto stupore, davvero la chiesa vuole sentire quello che io ho da dire, davvero voi ascoltate e cercherete di mettere in pratica quello che vi diciamo e questo è anche all'interno di followers, non voglio spoilerare come direbbero un posto di linguaggio, però appunto è stato proprio il accogliere le famiglie e camminare con le famiglie, ecco non solo quelle ovviamente dei ragazzi del catechismo, ma questo è un buon bacino d'utenza, insomma. Allora hai annunciato followers inseguendo Gesù, una proposta di cammino, di conoscenza di Gesù è un invito a seguirlo, a diventare appunto dei followers, un percorso per la catechesi, anticipiamo la scaletta, vediamo subito il servizio così poi lo commentiamo insieme. Followers è un percorso ideato e condotto nell'Arcidiocesi di Pisa, un percorso di catechesi per bambini e per ragazzi. Il primo step riguarda i bambini che si preparano alla messa di prima comunione, il secondo step invece per i bambini e i ragazzi diciamo dell'età della scuola media, il terzo step è per i ragazzi che si preparano alla cresima. Followers non cala dall'alto, ma è ideato insieme all'Arcivescovo, i preti e ai catechisti. L'equipe dell'ufficio catechistico è passata a presentare la proposta ai preti e poi ai catechisti, sempre vicariato per vicariato, accogliendo ovunque suggerimenti, proposte di modifiche o appunto anche integrazioni. C'è una proposta di pastorale integrata che mette al centro la persona. Come pastorale giovanile abbiamo contribuito nelle proposte delle attività, ma anche insieme con l'ufficio catechistico nella riflessione rispetto a un cammino di fede che potesse continuare in modo coerente, in modo lineare dopo la cresima. Tra i vari uffici anche la Caritas è intervenuta fin dall'inizio nella realizzazione di followers. Molto spesso, infatti, capita di pensare che la catechesi sia qualcosa che non ha a che fare con la carità o con la liturgia. E invece non è così. La catechesi è liturgia e carità. Fin dall'inizio si scopre per i ragazzi, adolescenti e per i nostri bambini la bellezza dello sporcarsi le mani nella cura della testimonianza della carità. Il camminare insieme di followers lo si vede anche dai destinatari, che non sono solo i bambini e i ragazzi che stanno facendo un percorso di catechesi, ma anche, per esempio, le famiglie che vengono intercettate sia con delle proposte di gruppo, sia delle proposte personali, ma anche coinvolgendo le comunità che vengono intercettate attraverso provocazioni e proposte varie. Con il tempo abbiamo scoperto una cosa, che prima del che cosa è stato più importante il come, cioè lo stile con cui abbiamo portato avanti il nostro progetto e tuttora lo stiamo portando avanti. Perché magari sì, i tempi cambiano, il prodotto avrà bisogno poi di essere modificato, ma una cosa rimarrà, aver imparato a lavorare insieme e camminare insieme proprio come comunità ecclesiale. Beh, molto interessante, Don Emanuele, Silvia, insomma, un progetto per la catechesi, una proposta, Silvia, la cosa che balza subito all'occhio, guardando anche il servizio, è che i protagonisti, anche della scrittura, se vogliamo, di questo progetto, sono diversi uffici di curia, non è solo l'ufficio catechistico, è proprio una collaborazione trasversale, Silvia. Sì, sono tutti gli uffici di curia che hanno collaborato con l'ufficio catechistico e dell'evangelizzazione con Don Federico Franchi, proprio tutti insieme, proprio perché il progetto è di catechesi integrata. La persona all'interno della sua famiglia è quella che vogliamo accompagnare, proprio facendoci compagni di viaggio. E questa è proprio una testimonianza, secondo me, molto concreta del camminare insieme, di fare sinodo. E quindi non affidare a un singolo gruppo responsabile della catechesi questa responsabilità, ma proprio farla tutti insieme. E questo è... Ci torniamo solo per un istante, poi torniamo ad approfondire followers, anche vorrei approfondire con te Don Emanuele il fatto che la catechesi è anche carità. Poi magari ci spiega anche questo passaggio, è bello vedere tutti insieme, anche col Vescovo Benotto, insomma, che ha accolto le nostre telecamere. Dopo la pubblicità torniamo. La diocesi di Pisa, protagonista della nostra puntata di In Cammino, per scoprire il cammino sinodale lo stiamo facendo anche in iniziative, anche editoriali, che nascono in diocesi, ma che sono un po' volendo per tutta l'Italia. Ne parliamo sempre con Don Emanuele Morelli e con Silvia Pampano, parlavamo di followers, abbiamo visto il servizio, un sussidio, un percorso catechistico. Nel servizio veniva fuori anche l'immagine della catechesi come carità. Ci spieghi questo passaggio? Io ho della carità come catechesi anche, no? La contaminazione tra pastorali, abbiamo capito finalmente che non possiamo più bastare a noi stessi, abbiamo bisogno di intrecciare i nostri percorsi, i nostri cammini, il sinodo ci ha spostato su questi percorsi di contaminazione. Sì, Don Federico, che fra le altre cose ha fatto il servizio civile in Caritas, formato, è un segnale importante, ci ha chiesto come Caritas diocesana di ricamare la prima tappa di followers con 11 appuntamenti ad uso dei catechisti che possono utilizzare all'interno del percorso in preparazione, nei tre anni di preparazione alla prima comunione, come opportunità nelle quali i ragazzi vengono in contatto, si parla dello spreco, vengono in contatto con gli stili di vita, che sono segni di Vangelo, l'importanza poi di fare esperienze concrete, vengono al nostro emporio, passano lì con noi mezza giornata, un'esperienza di catechesi fatta sporcandosi le mani, con la carità, no? E allo stesso tempo una catechesi che diventa vita, diventa concreta, diventa impegno, diventa stile, diventa scelta. Anche, diciamo, questa metodologia, Silvia, aiuta anche a colmare quel gap, diciamo, dei linguaggi, no? Per saper raccontare la Chiesa, saper raccontare la propria fede e quindi parlare anche di una testimonianza vera. Sì, 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 certo, perché è proprio, il percorso è proprio strutturato con dei linguaggi comprensibili dai ragazzi, ci sono tante attività pratiche oltre a quelle della carità, ce ne sono anche proprio, per esempio, delle attività un pochino sui social, ci sono dei filmati da vedere, delle cose da fare e questo è il linguaggio dei ragazzi di oggi, no? Proprio come diceva perfettamente Don Emanuele, lo sporcarsi le mani, è quello che vogliono fare, è quello che ci chiedono, ma anche le famiglie, anche l'approccio, il linguaggio, a volte anche i silenzi con cui incontriamo le famiglie e le famiglie anche allargate, perché per esempio ci sono al primo anno di followers in cui si riscopre il battesimo per i ragazzi che l'hanno già ricevuto o si battezzano i ragazzi che arrivano e ancora non l'hanno ricevuto, si invitano anche i padrini e le madrine, anche i nonni a vivere questo compribattesimo per chi l'ha già vissuto. Quindi è proprio un incontrare, un dialogare, cercando per quanto possibile di adottare i linguaggi giusti con le diverse realtà e le diverse persone che ci stanno davanti proprio in quest'ottica integrata. E la cosa bella è che questi uffici diocesani fantastici che abbiamo ci fanno anche formazione come catechisti in maniera integrata, insieme. E questo ci aiuta anche ad adottare un linguaggio giusto. La formazione, formazione dei laici per la famosa corresponsabilità, ma anche per creare figure di leadership all'interno delle comunità che possono essere punti di riferimento per le comunità stesse. Sì, è una delle consapevolezze nuove alla quale siamo arrivati con questo cammino sinodale. Abbiamo bisogno di animatori pastorali, abbiamo bisogno di animatori di comunità, che non è un'altra figura, ma è il taglio, è lo stile, ci teniamo tanto a questa parola, perché stile è la congruenza fra quello che si annuncia e quello che si vive, è la coerenza fra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Allora, essere animatori di comunità, il prete, i catechisti, gli animatori liturgici, gli operatori della Caritas, bisogna che tutti ci convertiamo a questa prospettiva di essere e fare chiesa. Il cammino sinodale ci ha portato a questa nuova consapevolezza, antica, perché è la chiesa del Vaticano II, ma che è necessaria se vogliamo far crescere la nostra esperienza di comunità. Allora, Silvia, c'è una cosa che ti ha stupito? Questa è pure un'altra domanda che facciamo spesso, no? Nella fase di ascolto, una cosa che non ti aspettavi ci fosse, oppure una cosa che pensavi che non fosse, diciamo così, nelle corde di chi ha risposto alle vostre domande iniziali? Sì, ce ne sono state tante e soprattutto, come dicevo prima, quello che ci ha stupito molto spesso è l'ascoltare dalle persone forse un pochino più lontane dalla chiesa, che la chiesa la frequentano meno, l'hanno lasciata o per scelta dolorosa magari non possono esserci dentro, perché magari, che ne so, sono sposate con persone che non permettono loro di frequentare la chiesa, no? Abbiamo ascoltato queste sofferenze e queste anche sentirsi esclusi a volte dalla chiesa per alcuni atteggiamenti, no? Quindi questa cosa, insomma, in realtà io non me l'aspettavo perché chiesa per definizione è accoglienza e quindi questa cosa un pochino ci ha stupito. E poi anche ascoltare invece la volontà delle persone di dire la propria, no? Come vedo la chiesa, come vorrei che fosse la chiesa, no? A volte ci hanno detto cose anche non tanto belline, però ne abbiamo preso atto perché le richieste erano lucide e giuste. E quindi... Saper accogliere questo tipo di richieste, Don Emanuele, per poi dare anche delle risposte concrete. Spesso magari è il silenzio la risposta più forte in quel momento, ma poi rimugina dentro e delle risposte vanno trovate. È importante, il metodo della conversazione spirituale ci obbligava ad ascoltare, no? Anche noi che ponevamo delle domande. Quando abbiamo chiesto al gruppo dei ragazzi in servizio civile, 20 ragazzi di cui soltanto uno frequentava la comunità ecclesiale, quali fossero secondo loro i mali della comunità ecclesiale, quali fossero i rimedi. E certo è venuto fuori molte cose che ci hanno colpito, anche ferito, l'autoreferenzialità, la paura della diversità, la fatica proprio ad ascoltare, il problema del linguaggio, il problema della corresponsabilità reale all'interno della comunità ecclesiale. Ecco, su tutti questi percorsi ci siamo messi in cammino insieme con la Chiesa Italiana, non solo come Chiesa Pisana, e la speranza e la certezza che vogliamo di fatto poi operare un cambiamento, essere una Chiesa meno autoreferenziale, più inascolto, più accoglienza, capace di parlare i linguaggi di tutto, per essere comprensibili, per essere accolti. Insomma, un bel programma, alle porte del giubileo, insomma, buon cammino e grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno. Noi torniamo domani, vi ringrazio, ringrazio Damanile Morelli, ringrazio Silvia Pampano, anche proprio per essere stati con noi e aver parlato, senza filtri del cammino fatto. A domani di nuovo, grazie per essere stati con noi.